Raccolgo le segnalazioni dei cittadini, cerco di dare voce ad esse attraverso lo strumento mediatico, ma lo scopo è quello poi di andare negli uffici comunali competenti per affrontare la problematica. E' questo il ruolo di consigliere comunale di strada, così mi piace definirmi. Siamo al quartiere Paolo VI a Taranto, vedete Piazza della Liberazione, un'area davvero immensa, enorme, la vedete anche di qui. Un oasi di pace, peccato che è completamente trascurata dall'amministrazione, ma voglio incentrarmi oggi sulla questione della sicurezza degli alberi. Vedete, non esiste manutenzione, non esiste controlli, non esiste nulla. Qui abbiamo, nonostante le sollecitazioni, le segnalazioni, vedete abbiamo qui due pini, due pini che sembrano molto, sembrano pericolosi, non voglio dire molto pericolosi, ma vedete questo, già un pino con un fusto enorme, sembra già, vedete, piegarsi, quasi pronto a ribaltarsi. Siccome proprio qui dietro, tempo fa, è accaduta la stessa cosa, che c'era un pino che si stava curvando, sino poi a ribaltarsi, a sradicarsi, appunto a ribaltarsi, non vorremmo che la stessa cosa accadesse qui, ma non riguarda questo caso isolato. Se ci spostiamo, vedete un altro pino, questo, che è meno, meno incurvato, ma si sta già incurvando. E proprio in questa aiuola, in questa area, ci sono altre situazioni, ma potrei andare all'infinito, uno dietro l'altro, guardate questo, anche questo, guardate proprio come si sta appunto piegando. E poi, sempre continuando con i pini, possiamo vedere anche quello, vedete? Anche quello si sta piegando pericolosamente. E guardate qui il clou, questi alberi enormi di alto fusto, non vengono potati, non vengono manutenzione zero. Guardate anche lì su come si stanno incurvando. Guardate la parte superiore dell'albero, il fogliame è sopra, ma quel tratto, quel pezzo del tronco, lo vedete, già ondeggia pericolosamente. Ed ondeggia pericolosamente ancor più con le raffiche di vento. Questa è una zona abbastanza aperta, scoperta, per cui le raffiche, il vento non ha delle barriere, ma chiaramente a pieno campo batte sugli alberi e li piega ancor più. Allora, io dico, no? Ma questa, questa, l'amministrazione Menucci, è l'amministrazione del nulla. È un'amministrazione che non amministra, ma davvero non amministra male, non amministra proprio. Perché non è possibile, inaudito, che l'ufficio deputato al verde non esegua controlli. È una cosa gravissima, nonostante le segnalazioni. Abbiamo visto in città numerosi casi di alberi, di tragedie sfiorate ed evidentemente queste tristi esperienze, questi episodi che si sono verificati, guardate, non sono serviti a nulla. Perché in altre, in tante zone della città, nonostante le sollecitazioni, nulla? Allora, a questo punto io dico, ma l'amministrazione comunale, per intervenire, cosa aspetta? Che si verifichi una tragedia? No, fatemi capire. Perché poi la tragedia, le persone finiscono all'ospedale o, peggio ancora, all'altro mondo e poi si aprono le inchieste penali su chi doveva vigilare e non ha vigilato. Concludo questo mio intervento. Guardate qui quest'albero, lo vedete? Questo prima o poi ci lascia e si ribalta. Io ve lo per cui intervenire e soprattutto salvaguardare e salvare vite umane. Perché se cade un albero del genere può succedere di tutto e a serio rischio la pubblica incolumità. E non mi parlate di procurato allarme perché questa immagine parla da sola.